È necessaria una presa di coscienza mondiale e una strategia internazionale condivisa per fermare il degrado dell'ambiente naturale e della salute degli oceani, che colpisce chi è già più vulnerabile, a partire dai pescatori. Papa Francesco l'ha ribadito con forza incontrando in Vaticano i leader del Pacific Island Forum, rappresentanti dei paesi dell'Oceano Pacifico, che subiscono sempre nuovi fenomeni estremi ambientali e climatici. Il pontefice ha ricordato il problema dell'inalzamento del livello dei mari e il doloroso declino della barriera corallina, usando le parole dell'appello dei Vescovi delle Filippine, 30 anni fa. Chi ha trasformato il meraviglioso mondo marino in cimiteri subacquei spogliati di vita e di colore? L'uomo ha molte colpe, ha sottolineato il Papa, per lo sfruttamento delle risorse naturali e umane, il cui impatto arriva fino in fondo agli oceani. L'auspicio è che i lavori della COP23 e la Conferenza ONU sul cambiamento climatico in corso a Bonn tengano sempre presente quella terra senza confini, dove l'atmosfera è estremamente fine e labile. Ma questa visione di una terra senza confini annulla le distanze geografiche, richiamando la necessità di una presa di coscienza mondiale, di una collaborazione e di una solidarietà internazionale, di una strategia condivissa che non permettano di restare indifferenti di fronte a problemi gravi come il degrado dell'ambiente naturale e della salute degli oceani, connesso al degrado umano e sociale che l'umanità di oggi sta vivendo. D'altronde, non solo le distanze geografiche e territoriali, ma anche quelle temporali vengono anulate dalla consapevolezza che nel mondo tutto è intimamente connesso.